Nel 2005 abbiamo approvato questa delibera in cui c'era la variante allo strumento urbanistico e su quest'area veniva dichiarata una volta per tutte l'inedificabilità, su questo suolo non si poteva e non si può più edificare. Questa fabbrica per come la vedete oggi fa molto meno paura rispetto a prima, spesso quando entro con l'ingegnere Campanaro o con Nicola Brescia sembra una casa abbandonata dei puffi, ha questo colore blu, in realtà quel colore blu è una vernice, si chiama incapsulamento, serve a tenere le fibre aerodisperse incollate a questi edifici, a questi fabbricati in modo che non creino problemi alla popolazione.